Il leader dei 5 Stelle, intervistato da Annunziata su Rai 3, non chiude all'ipotesi di un trasloco del premier da Palazzo Chigi al Colle, serve una figura di altissima caratura morale, e Draghi rientra in questa descrizione, ma devono realizzarsi varie condizioni. Secondo l'ex Presidente del Consiglio, l'elezione del suo successore come nuovo Capo dello Stato non significherebbe un automatico ritorno alle urne per elezioni anticipate, non abbiamo nessuna fretta di andare a votare. Mario Draghi Presidente della Repubblica? Per la prima volta il leader del partito di maggioranza relativa in Parlamento non esclude un possibile trasferimento del Presidente del Consiglio da Palazzo Chigi al Quirinale. Una novità che può infiammare la corsa al Colle quella contenuta nelle dichiarazioni di Giuseppe Conte a Lucia Annunziata. Non possiamo escludere Draghi al Colle, quindi lavoreremo per trovare il candidato migliore e lui rientra in questa descrizione. Ma al momento è prematuro, ha detto il leader del Movimento 5 Stelle a mezz'ora in più su Rai 3. Fino ad oggi la prospettiva di vedere il Premier come successore di Sergio Mattarella è stata esclusa sia da Enrico Letta che da Silvio Berlusconi, ma anche da Matteo Salvini, seppur con toni diversi. Riparandosi dietro un generico, abbiamo bisogno che Draghi faccia il Premier e i leader di PD, Forza Italia e Lega hanno cercato di allontanare l'ipotesi del ritorno alle urne, che si concretizzerebbe in caso di elezione di Draghi al Colle. Conte, invece, non la pensa allo stesso modo, nella prospettiva di Draghi al Colle, se ci fossero tutte le condizioni, non dobbiamo pensare che solo per questo si vada alle urne. Non abbiamo nessuna fretta di andare a votare, dice l'ex Premier. Che poi spiega perché non considera le elezioni anticipate come un'opzione valida. Dobbiamo spingere al 6% di PIL, dobbiamo continuare ad attuare il PNRR e l'avvio iniziale è fondamentale. In tutto questo, pensare di eleggere un presidente e un attimo dopo andare a votare, chiunque sia, non è nell'ordine delle cose, ha detto Conte che poi ha aggiunto, debbo essere trasparente, non anteporrò mai il mio tornaconto personale. Ma per essere chiaro, siccome mi attribuiscono la volontà di voler andare a votare, avendo un nuovo corso con nuovi organi, abbiamo bisogno di tempo, quindi non c'è neppure la fretta di andare a votare. Grazie a tutti.